quello sul pendaccio la ple papà posso lo sciolo hai fatto anche oggi ciao ragazzi tanto per cominciare iscriviamoci tutti al canale qua sotto più ci iscriviamo e più cose proviamo eccoci qua altro episodio il secondo dove volevo far vedere un po tutti i percorsi della zona proprio per far vedere com'è il territorio ieri siamo andati a fare un giro sempre a san severino marches sul versante opposto di quelli come faccio di solito i video è un nuovo tracciato molto semplice alla portata di tutti si chiama mucca trail vediamo un po come mucca trail mucca trail vediamo un po un po' 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 Grazie a tutti E' due piantole proprio Grazie a tutti Grazie a tutti Il trenino si 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 Grazie a tutti Al prossimo video Ciao